Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono 2 km di coda per veicolo in avaria tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Fino all'8 dicembre tratto chiuso per lavori al km 0 della strada provinciale 224 di Marina di Pisa nei pressi dello svincolo di via Quaglierini a Livorno della Filippili per una frana avvenuta al km 79 865 proprio della Filippili. Statale 64 porrettana provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni per una frana tra Pavana e Ponte della Venturina. Per i treni dalle 16 di sabato fino alle 4 di lunedì mattina sospesa la circolazione sulla linea Bologna-Prato tra Pianoro e Prato, servizio bus sostitutivo al posto dei regionali. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!